e di liberare questi due chef alle spalle che cucineranno per voi delle prelibatezze i piatti in gara per la stessa tappa di IMAF Chef's Cup chiamo lo chef dell'antino Massimo Livan qua con noi a dare in bocca al lupo ai due partecipanti a raccontarci un po' il menù che ha cucinato per voi premetto appunto Massimo, vieni Massimo, ha cucinato un applauso il menù che degusterete questa sera, che trovate appunto scritto davanti a voi in questa piccola cartella è stato curato e creato dallo chef Massimo e non fa parte di IMAF Chef's Cup è appunto un menù che voi degusterete i due piatti invece creati dagli chef sono dei piatti molto particolari che vi racconteremo tra poco Massimo che cosa dice a questi due giovani chef stellati in competizione? intanto buonasera a tutti e benvenuti al Centurion Palace auguro ai miei colleghi una grande sfida e di ottenere il massimo di risultato grandi punti stasera, forza, e il resto andiamo forza Veneto forza Veneto, anche se siamo a Napoli però siamo a Napoli ma Grazie a tutti.